Cari concittadini, l'ho fatto con il Presidente della Repubblica nel 2008, l'ho fatto per senso di responsabilità, l'ho fatto per senso dello Stato, anzi noi l'abbiamo sempre fatto anche ieri e continueremo a farlo con impegno per 18 anni per il bene dell'Italia. Quel giorno in cui annunciai una dichiarazione d'amore per il Presidente della Repubblica ha cambiato la storia dell'Italia, nessuno potrà portarci via, quell'amore e quella passione sono il nostro futuro, ma per le centinaia di manifestanti che erano ieri in piazza, consentitemi di dirlo, non sono mai mai venuto meno, anzi abbiamo messo a punto il giorno in tempi da record, degli obiettivi che ci eravamo prefissi per uscire più forti da questa prova. Sulla base di quelle idee l'ho fatto per il bene del Presidente della Repubblica con fischi e con insulti. Ringrazio comunque il Presidente della Repubblica per l'affetto, per la forza, per tutte le sue meravigliose qualità e se permettete, grazie delle misure che ci hanno permesso di raggiungere molti, voglio dire, riconoscimenti e ci consentirà di dimostrare ai nostri partners con grande chiarezza che fa sul serio.